E' essere in diretta Aspettiamo di vedere qualcuno in chat Intanto ciao ragazzi per chi sta guardando Questa live ricaricata sul mio canale youtube Perché sapete bene che le carico Sempre, ogni volta che vado in live Poi viene caricata Vediamo, ok, ecco il primo in chat Salim, ciao, ciao ciao Allora, ho già annunciato la live Sia su instagram Che su youtube, nella sezione community Ovunque, perché questa sarà tipo La live di fine estate Dai, giocheremo insieme un'oretta All'impero craft, oh, ok Adesso ci siete tutti, ciao carli Mamma mia quanti siete lì già Bene, 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 ciao, ci sono già 100 mi piace, mi piace In 28 secondi, scusate il gioco di parole Se non avete ancora lasciato mi piace Fatelo, adesso, tra non molto iniziamo Aspetto che arrivi un pochettino più gente Ok, 500 mi piace 10 secondi dopo Ciao ragazzi, come state? E' da tantissimo Tempo che non vado in live Parca miseria, saranno passati due mesi forse? Mi sa che quest'estate non ci sono andati Non mi ricordo Fatemelo sapere voi se sono stato in live quest'estate Ma non credo Finalmente un po' di impero craft Esatto, puoi dirlo forte Un bel sabato mattina Insieme con l'impero craft Allora, non vi preoccupate La live verrà ricaricata sul canale Quindi, se non lo so Avete degli impegni Dovete andare a pranzo Dovete andare a fare judo Non lo so La potrete ritrovare Da l'una in poi Perché durerà un'ora Visto che il titolo è Gioco all'impero craft per un'ora Quindi da l'una in poi La potrete riguardare Tutta quanta E' la mia prima live Sono felice Sono molto felice Che riesci ad assistere Mi arrivano spesso commenti Di gente che dice No, me la sono persa Oppure no, non mi è arrivata la notifica Ragazzi, dovete camperarlo il mio canale Dovete vivere dentro il mio canale Per non perdervi nulla No, sto scherzando Ciao, ciao, ciao Ok, siete già tantissimi Siamo 3000 spettatori Molto, molto bene Eppure la mia prima live con te Bene Quindi ci sono tantissime facce nuove Ok, ragazzi Si giocherà all'impero craft Per un'ora Quindi entriamo in mondo a caso 2 Allora Lo dico già da ora Però tanto sono sicuro Che dovrò ripeterlo Se dovesse esserci qualche problema Di lag o di audio Robbe così Non vi preoccupate Scrivetemelo in chat E si risolverà il prima possibile Per quanto riguarda la qualità Siccome ci sarà Chi mi dirà Si vede un po' sfocato E' un problema del vostro internet A me YouTube dice Che la condizione è eccellente Che va tutto quanto benissimo E poi quando il video Verrà ricaricato su YouTube Vedrete in full HD A 60 fps Ciao, mi saluti La chat sta andando un po' troppo veloce Per i saluti Quindi magari facciamo dopo Quando un pochettino Rallenterà Andiamo in caverna Non voglio spoilerare troppo Siamo già 4.000 Ammazza Ok Allora Giocheremo un'ora ragazzi Se non avete visto Il video scorso Ho creato una stanza segreta Che tra l'altro Vi è piaciuta molto Ogni volta che provo a aprire la porta Piazza una torcia Vi è piaciuta molto La stanza segreta In cui abbiamo messo appunto Il tavolo degli incantesimi Adesso ve la faccio vedere Se vi siete persi il video Ed è questa qua Ho fatto una specie di dungeon Una specie di cripta Come vedete con la lava Che a quanto pare Non ha bruciato nulla Quindi possiamo stare tranquilli E sicuri Mi avete detto tra l'altro Di mettere delle pozze d'acqua qua E mi avete anche detto Di cambiare un pochettino le scale Anziché utilizzare le scale Mi avete detto di usare le slab Magari poi lo facciamo Allora intanto vado a prendere dell'acqua Ma intanto mangi Ma no Mangerò dopo sicuramente Allora aspetta aspetta Questa lava dove la mettiamo? Quest'oggi ragazzi Dobbiamo assolutamente incantare l'armatura Cioè sono troppo nabbo Non va bene Che non ho nulla di buono Facciamo così Siccome voglio evitare di bruciare tutta la foresta Per ora la lava la mettiamo qui E prendiamo un pochettino d'acqua Quindi come vi dicevo Devo incantare l'armatura Ma soprattutto Ho bisogno di minerali Sono messo malissimo a minerali Non ho praticamente del ferro in magazzino Non ho diamanti Non ho nulla Dov'è Carli? E' qua Che adesso se ne sta andando Vi ha salutato Ok allora quindi La vostra idea era quella di creare Una specie di pozzanghera In questo modo Ah Ci può stare Che dite vi piace? Secondo me ci può stare Allora siamo già a 2400 mi piace Ma ci sono ben 4000 spettatori Quindi c'è qualcosa che non va ragazzi Io direi Lasciate mi piace tutti quanti Giusto? Eh? Ma li leggi i messaggi? Sì Però siete tantissimi Cioè la chat va molto molto veloce E' difficile leggerli tutti quanti Allora come vi dicevo Dobbiamo andare in caverna Quest'oggi Non entrerò nel nether Perché Rischierei di morire E non voglio morire No Anche perché io non sono mai morto Qua nell'impero craft Giusto ragazzi? Ditemi in chat se sono mai morto Ma non che io mi ricordi Andiamo a svuotare un pochettino l'inventario C'ho troppa troppa spazzatura Oppure potrei bruciare No Dai Mettiamolo direttamente tutto quanto a casa Che ne pensate ragazzi dell'impero craft? Perché io all'inizio Allora facciamo che Questa roba Potremmo metterla qui Questa non mi serve Al momento Questa neanche Io all'inizio Avevo un pochettino di paura Perché so che tutti quanti Siete molto affezionati alla candy craft E quindi Prima di creare l'impero craft Avevo un pochettino di timore Di paura Che Non lo so Non vi piacesse Perché sapendo che appunto Amate tutti quanti la candy craft Ho pensato Eh magari se faccio un'altra serie Mi dicono Che schifo No Vogliamo la candy craft E non fare questa roba qui E quindi Mi sto impegnando Al 300.000% Per Renderla bella Per farla Per trasformarla In una serie interessante Che non dico Sostituirà la candy craft Ma che almeno Può essere al pari Ecco Può essere equa E E vi sta piacendo tantissimo Sei caduto No non è vero Non sono mai morto Non so che cosa stai dicendo Quindi vi sta piacendo tantissimo Io sono molto contento di questo Non me l'aspettavo C'è grafi in chat Ciao grafi Ok allora Svoltiamo l'inventario Questo si sta rompendo Lo possiamo anche togliere Questi tanto non mi serviranno Queste robe con silk touch Piccone piccone ascia Ho bisogno di farmi una spada Non è possibile che non ho una spada in diamante Guardate Sono poverissimo Cioè ho soltanto uno di ferro E zero diamanti Sono pieno d'oro Ma Non me ne faccio nulla dell'oro Questi prendiamoli che ci serviranno sicuramente Così almeno Non rischiamo di morire E Direi Di andare ragazzi Siete pronti Per un'esplorazione in miniera In cui prenderemo tantissimi diamanti E tanto 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 ferro Allora Dove vado Vediamo Perché io molte miniere le ho già esplorate E quindi non vorrei andare troppo In un punto che Ho già visitato Qua tipo ci sono mai sceso Mi sa di no Vediamo Aspetta Addentriamoci Piano piano Dimmi che continua Ti prego Promette bene Fino ad ora Scende un bel po' Allora aspetta Facciamo così Meglio avere un secchio d'acqua Uh Dove mi porta? Ah E l'entrata dell'altra miniera Ok Ai Fermo Scuda la mano E Muori Muori Nell'impero craft abbiamo avuto piuttosto sfortuna con i diamanti Non ne ho trovati tantissimi A parte in quell'episodio in cui sono riuscito a trovarne tipo undici E quindi mi sono fatto la corazza No allora Qua non c'è nulla Andiamo da un'altra parte Probabilmente troverai solo carbone Bene La mia solita fortuna Come avete passato le vacanze ragazzi? Siete contenti che si torna A scuola? Ovviamente Penso che non ve lo devo neanche dire Ma Con il ritorno della scuola Quindi Da lunedì i miei video usciranno di nuovo alle quattordici Allora Salve signori creeper Volete esplodere? Sai che c'è un enderman? Sì c'è un enderman là sotto Allora mangiamo No No Cosa mi sono perso? Ragazzi non iniziamo per favore con il meme del cosa mi sono perso Niente è appena iniziata la live Ok facciamo esplodere sto creeper Vuoi esplodere per favore? Molto bene L'enderman No 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 Ma ce l'hai con me Ma scusa Ma è lui che è esploso Perché te la prendi con me? Dai Tanto non mi fai nulla Sei troppo basso Non ci arrivi qua eh Te l'hai da esplodere Stupido Ok pariamoci Dai dai Esplodi Oh che paura Allora Quest'oggi ragazzi non devo sicuramente morire Se muoio Faccio una figuraccia E non posso fare una figuraccia in live Mi metto a piangere se faccio una figuraccia del genere C'è un bel axolot qui Ok Sta caverna non mi ispira più di tanto onestamente A meno che ora scendo un altro po' Vediamo Ci può essere qualcosa Ok il ferro mi serve Il ferro lo dobbiamo prendere Mi sono svuotato l'inventario di proposito per quello C'era del ferro prima Sì 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 ma adesso lo prendiamo Hai distrutto l'enderpearl Vabbè pazienza Tanto non penso mi serva l'enderpearl Non per ora se non altro Il 15 ottobre c'è il minecon Sì Io ho visto soltanto il trailer Ma non avevo visto la data Sì ogni anno lo fanno più o meno Nello stesso Nello stesso periodo Qua si scende Diamanti A che profondità sono 95 Sì ciao Prima di trovare i diamanti ragazzi Lo devo mangiare di pane Allora Vediamo se riusciamo a trovare una piccola discesa Da qualche parte Per sta caverna Forse qui si allarga un po' Oh no Non ti volevo guardare Qua 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 però mette bene Vediamo Se no ragazzi Ne cerchiamo un'altra direttamente No sta caverna fa schifo Troviamo un'altra va Che è meglio Però prima Uno Due E tre Quattro Un altro colpo e muore Grazie per l'enderpearl Sto facendo i compiti Sto facendo i compiti Oh cavolo è vero I compiti delle vacanze Allora Li avete fatti tutti ragazzi? Siete stati bravi? Tra l'altro mi sono arrivati tantissimi messaggi oggi su Instagram Di gente che mi diceva che andrà in prima superiore adesso E voi dove andrete invece? Metti le donazioni No non mi piace ricevere le donazioni Preferisco giocare così e basta Tanto la live è già monetizzata Quindi non mi servono le donazioni Qua forse scende un po' No non promette bene Vediamo se riusciamo a trovare un'entrata migliore Mi sa che questa l'ho già esplorata tra l'altro Prima media Seconda media Quinta elementare Prima superiore Terza media Prima superiore Ok ok Siete emozionati ragazzi? Che rinizia la scuola Soprattutto per quelli che andranno in una nuova scuola Quindi alle superiori o alle medie Sicuramente un po' di emozione ce l'avete Che brutta sta caverna Perché non c'è niente A meno che si allarga qui No Però siamo a profondità 48 Che dite scavo un po'? Ti voglio donare 100 euro Non c'è bisogno grazie Apprezzo il pensiero ma non devi farlo Prima superiore Io sto tornando dalle vacanze No bruttissimo tornare dalle vacanze E poi inizia la scuola Lunedì Io quest'anno Quasi zero vacanza Ho preso soltanto tipo Un giorno ogni tanto a luglio E un giorno ad agosto di vacanza Però mi sono fatto i weekend liberi Sabati e domeniche quindi È già qualcosa Considerato che Gli altri anni Non Non mi fermavo mai Cioè registravo E lavoravo anche di sabato e di domenica Almeno in questo modo Mi sono potuto riposare un pochettino Ah Io non so se Lo sapete Ma Credo di sì Sono un altro quelli che mi seguono su Instagram Allora intanto Se caverna fa schifo Quindi usciamo Quelli che mi seguono su Instagram Sicuramente lo sanno Ma io tra qualche giorno Potrei annunciare qualcosa Non dico altro Chi vuole capire Ha già capito Mi basta dire questo Ok Basta Se caverna è orribile Andiamo via Qualcuno in chat Sta dicendo Qualcosa Io non voglio confermare nulla Voi potete avere le vostre teorie Potete dire quello che volete Non confermerò di certo Quello che state dicendo in chat Troviamo un'altra caverna Dai Entriamo nella foresta di bambù Spero che ci vediate Ci vedete no? Perché di solito Nelle mie live Ho la night vision Però Essendo che siamo Nell'impero craft Non posso usare i comandi Invita a bella faccia Prima o poi Lo inviteremo anche Nell'impero craft Così potrà vedere Quanto sono diventato bravo A costruire Più o meno Con quanti dpi Ho i giochi Boh Tipo Mille credo Non ne sono sicuro Cosa mi sono persa Ragazzi Allora Se lo dite veramente Il cosa mi sono perso La risposta è Non troppo Cioè stiamo Cercando una caverna migliore Per prendere un pochettino Di diamanti E un po' di farraia Se invece lo dite per il meme Smettetela Qua forse si scende Vediamo No Ho la 1.18 Con le caverne Bellissimo Tutto quello che volete Ma Troppo difficili da trovare Soprattutto quando le trovi Non trovi mai I diamanti Sono troppo grandi Uh Allora in realtà Un'idea ce l'ho Potremmo andare Oltre il villaggio Perché lì c'era appunto Un'apertura gigante Nella montagna 1.19 Sì sono in 1.19 Ma le caverne Le hanno messe Nella 1.18 Le migliori caverne Sono in 1.17 È vero Perché Negli snapshot Della 1.17 Le caverne erano Bagatissime Erano super grandi Ma erano Super piene Di minerali C'erano tanti Di quei diamanti In giro Infatti mi ricordo Che ai tempi Dissi tipo No Hanno rovinato il gioco Perché i diamanti Non sono più preziosi Se ne trovano troppi Sì 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 Mi ricordo che mi lamentavo Di quella cosa lì Allora Credo che dobbiamo andare Da quella parte Super Stef Oh c'è Stef in chat Ciao Stef Buongiorno E buona domenica Sì buona domenica Buon sabato Scusate Cosa mi sono perso Ragazzi Per favore Mio fratello Compie 6 anni Tanti auguri a tuo fratello Se sta guardando la live Altrimenti no No scherzo Facciamogli gli auguri Anche se non mi conosce Allora 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 Sì Bene Stiamo andando dalla parte giusta Di là dovrebbe esserci il villaggio E vicino al villaggio Ci sono Un casino di caverne Ragazzi Cioè è pieno E dove abbiamo trovato Gli undici diamanti Ma sono sicuro Che ne troveremo Oltretanti undici Anzi Di più Allora Intanto I mostri Li devo uccidere Perché devo farmare I livelli Perché voglio arrivare a 30 E voglio potermi incantare Devo iniziare a farmi qualche pezzo D'armatura E qualche spada potente Perché al momento Siamo messi veramente Troppo troppo male Cioè siamo già al Che episodio è questo? Tipo il 13 Mi sa Stop Siamo al tredicesimo episodio E ancora non ho un incantesimo Ho pochissimi diamanti Ho tipo Nove librerie Non va bene Non va assolutamente bene Sennò il drago Come facciamo Ucciderlo? Muori Ok Allora Le coordinate di casa Me le ricorderò? Tecnicamente le sono a memoria Dovrebbero essere tipo 380 E 2000 Qualcosa Mi sa Non mi ricordo Se sono 2000 O se sono meno 2000 Scusate Ti adoro Ti guardo da anni Grazie mille Continua a farlo Mi raccomando Non vi deluderò mai O almeno Ci provo Ok Enderman Che voi sappiate ragazzi Ci sono dei mostri Che danno più livelli Degli altri Cioè tipo L'enderman Ti dà più esperienza Rispetto a un creeper È una cosa Che non ho mai analizzato Vediamo Proviamo a ucciderlo Muori Muori L'enderman immortale Oh Boh Credo mi abbia dato Più o meno La stessa esperienza Oh ok Ora si ragiona Siamo usciti Dalla Dalla giungla E Se non sbaglio Più o meno Là sotto Dovrebbe esserci Il Il villaggio Allora facciamo così Mi faccio una barchetta Proprio al volo Al volo Così non devo stare qua A perdere tempo Ce la faccio oggi Oh Ok Perfetto E buttiamo un pochettino Di questa spazzatura Via 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 Il ferro ci serve Perché ne abbiamo veramente poco Questo lo potrei utilizzare Per decorare il dungeon Così così me lo tengo Sì sì Non mi dispiace Questo blocco di moss Questo via Questo via Ok Questo me lo riprendo Si va Si va ragazzi Attento di fronte al bambù Potresti incontrare Steph Ah è per questo che spammavate Steph Ok ho capito Adesso Oh mio dio 6600 spettatori Grandissimi ragazzi Avete già condiviso la live Con tutti quanti i vostri amici Giusto? Se avete un gruppo tipo Della scuola Un gruppo di chat Mandate il video Dite c'è Kendall L'imperatore in live Ti guardo dal 2014 Mazza Cioè ma vi rendete conto Che tra un po' Saranno 10 anni Che faccio video? Io ho iniziato nel 2014 A maggio Oh mio dio 10 anni di fare video Tutti i giorni Wow Certe volte Uh laggata Certe volte Non so neanche io Come faccio Allora Se ho laggato così tanto Vuol dire che forse Stiamo esplorando Qualche zona inesplorata Giusto? Lì Mi sembra Di vedere una caverna Possiamo andare da quella parte Non appena troveremo la caverna Ragazzi Ci fermeremo lì Fin quando non troviamo Tutti quanti i diamanti del mondo Ok Mi sa che ora si scende Giusto? Tra l'altro Questo mondo È super corrotto Da Dal warden Cioè è pieno di skull Ovunque Si può scendere qua? Mi sembra un po' pericoloso E no Non si può scendere Sono appena arrivato Cosa mi sono perso? Ok Quasi Quasi può scendere decisamente Utilizziamo un po' l'acqua Così non muoio Sploof Ok Mi butto Oh Ora si che si ragiona Ora si che si ragiona Questa caverna Già mi piace Ehi Vai il bravo Vai il bravo Coccodè Che io ho bisogno di livelli E se mi fai arrabbiare Li prenderò da te Ok ferro Ricordate Ferro e diamanti Sono le due cose che ci servono di più in assoluto Che cosa vi piacerebbe Nel prossimo episodio dell'Imperocraft? Cosa dovrei costruire Secondo voi? Salve Bam Allora oro Quasi quasi lo ignorerei Perché ne ho veramente Veramente troppo Siamo a profondità 2 Oh mio dio Oggi è il mio giorno fortunato ragazzi Ho mandato la live a mia nonna No non ci credo Nonne che state guardando questa live Benvenuti su Minecraft Io sono l'imperatore Ok allora Abbiamo trovato un diamante Due diamanti Dammi un altro Ti prego Ti prego No Te pareva La mia solita fortuna Ogni volta ne trovo soltanto due Allora ragazzi Siate ben vigili Mi raccomando Se vedete dei diamanti Ditemelo in chat Però cercate di non trollarmi Perché sennò mi metto a piangere Se non trovo nulla Ok Wow Aspetta aspetta Bellissimo qua Sto tunnel Costruisci una tua statua Mmm Non mi piace troppo fare Le statue di Minecraft Del Dei personaggi Perché sono sempre strani Cioè a meno che lo fai Estremamente gigante Diamanti No raga Non mi prendete in giro Per favore Non ci sono diamanti Non ce ne sono altri Non è vero Dicevo A meno che le fai Estremamente gigante Non viene mai realistica E non mi piace Farla troppo cubettosa Una mob farm Ah Ah Esistono nella 1.19 Cioè posso farle? Mob farm automatiche? Allora vediamo se qua in mezzo C'è qualcosa Altrimenti chiudiamo Ci sono degli altri Monster qua sotto Mi sa Sì esistono? Quanto ferro hai? Eh 36 Non troppo Considerato che devo anche farmi Un incudine mi sa Prima live del mondo Più bello del mondo Eh Esatto E non sarà l'ultima ragazzi Perché ho intenzione di fare Tante live Nell'impero Craft Ok Mi piacerebbe fare anche Una live dove costruisco Però ho paura Che duri troppo Cioè io solitamente Quando costruisco qualcosa Ci metto un bel po' di ore Non sono molto veloce Tipo marci no? Quindi Ad esempio Per fare il portale del neder In realtà non ci ho messo molto Ma perché Era semplicemente Cioè è troppo semplice Come costruzione L'unica cosa che mi ha richiesto Tanto tempo Era raccogliere l'ossidiana Ma neanche troppo Sinceramente Ma per fare ad esempio La torre dei quattro regni Oppure la mia casa castello Tutte quelle costruzioni lì Ci metto veramente Tante tante ore Anche 3-4 ore E ho paura Che in live poi diventi noioso Allora Glow squid Promette molto bene Questa caverna Facciamo esplodere Sto creeper Ok Vedete dei diamanti? Io al momento Non ne sto venendo altri Sinceramente Però capisco anche Che la vostra risoluzione Forse è un po' più bassa Rispetto alla mia Esplodi Potresti fare una live Delle murder mystery È vero Potrei Però sarebbe un po' Uno spoiler Perché se entrate All'interno Della partita Sapete tutti quanti Che sono io il murder Se dovessi essere murder 8000 spettatori Grazie mille ragazzi Siamo alla ricerca Di diamanti Tanti tanti diamanti E nel frattempo Facciamo anche dei livelli E prendiamo un pochettino Di ferro Il mio obiettivo Quest'oggi è quello Di fare 30 livelli Riuscire a prendermi Una spalla in diamante Che in realtà La posso già fare Perché ne ho due E incantarla Con qualcosa di OP Così almeno possiamo Fare i primi incantesimi Seri Oh ecco un altro diamante Aspetta No 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 Non esplodere Maledetto Se lo uccideva Lo scheletro Se non sbaglio Mi avrebbe droppato Un disco musicale Wow Ok No baby zombie Ehi Allora Siete tanti Siete tanti Fate i bravi Bravo zombie Vai contro lo scheletro Tu esplodi Ammazza questo Oh Lavoro di squadra ragazzi Adesso tu muori Bene Mi sono perso Io no Non ti preoccupare So come tornare a casa Credo Spero Bene Abbiamo trovato degli altri diamanti Uno soltanto Vediamo se ce ne sono Un altro po' qui in giro Non ne sto trovando molti in realtà Però siamo solo all'inizio ragazzi Sono passati 20 minuti Ricordatevi che la live durerà un'ora Un'ora di Imperocraft Non potete assolutamente perderla Perché potrebbe succedere di tutto Potrei morire Chi lo sa La prima morte dell'Imperocraft Nah figuratevi Allora senti un attimo Fatemi mangiare Qua se no ci schiatto Sei fantastico Grazie mille Anche voi siete fantastici Siamo fantastici Allora I lapis li prendo Per fare i livelli Visto che devo arrivare a 30 Non c'è nessun diamante Eh Non lo sappiamo questo ragazzi Bisogna controllare bene Dobbiamo guardare per bene 8000 spettatori Grazie mille ragazzi Per festeggiare la fine dell'estate Anche se non c'è niente da festeggiare Vorrei che durasse all'infinito E secondo me Anche voi Allora siccome questa live Verrà caricata su youtube Chi sta guardando il video adesso Su youtube Deve commentare con Io sono arrivato a questo punto Ok Mi raccomando ragazzi Così mi fate sapere Che state guardando Tutta quanta la diretta E non state guardando a spezzoni Muori Muori Ok Allora Qua si sale Non vedo altri diamanti Sinceramente Siamo a meno 20 Quindi potremmo trovarli Facciamo così Continuiamo a scendere Sì 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 No raga Non dovete scrivere Io sono arrivato a questo punto adesso Quando verrà ricaricata Sul mio canale youtube Oh Mineshaft Interessante Interessante Questa non l'ho esplorata Ne sono sicuro Ok Magari troviamo una cesta Con dei diamantozzoli No Un vicolo cieco Molto bene Puoi fare un video sulla candy craft Ragazzi allora Il motivo per cui ho Iniziato L'impero craft È perché Sulla candy craft Avevo ormai fatto tutto E non avevo più stimoli Cioè Sì Mi piace la candy craft E sicuramente Resta sicuramente nel mio cuore Però Se non ho più nulla da fare Non so che contenuti portare Invece Nell'impero craft Posso rifare tutto quanto da capo E tutto quanto nuovo C'ho più stimoli nel farlo E in più vi sta piacendo tantissimo Poi chissà Sicuramente un altro video Nella candy craft Primo o poi lo farò Per nostalgia Magari Quando Avremo finito Anche con l'impero craft Che ne sai Potremmo tornare Ok Mori 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 Oppure quando aggiungeranno Tante 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 altre cose Che Le finisco nell'impero craft E allora le rifaccio Anche nella candy craft Ok Siete Wow Siete un po' Un po' troppi Eh Piano Kendall tu non leggi Sto cercando in tutti i modi Di leggere la chat E concentrarmi anche sul gioco Ma non è facile Anche perché i vostri messaggi Sono tanti L'audio di gioco Lo sentite Beh No Oh porca miseria Mi faccio una spada Per forza Wow 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 Aspetta 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 Roto lascia Allora Facciamoci subito una spada Visto che i diamanti Comunque li ho trovati E in ogni caso L'avrei dovuta fare Ehm Buttiamo questo Bam 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 Ok Bene Quindi al momento C'ho un diamante Ragazzi Un diamante Come faccio a farmi l'elmo Sto scherzando Farei mai una live Della vita in città No Perché la vita in città È una serie Che dobbiamo portare insieme E se Mi porto avanti In live Da solo Non è giusto Perché non sarebbe giusto Nei confronti Dei miei amici Che aspettano di registrare Tutti quanti insieme Oltre al fatto che Sarebbe impossibile Portare la vita in città In live Perché lagherebbe troppo Ci sono troppe mod Mi hai fatto prendere un colpo No tranquilli ragazzi Figuratevi se faccio L'elmetto in diamante Dai Con chi pensate Di avere a che fare Con un nabbo Poi mi fa ridere Quando tipo Quando gli hater Cercano di argomentare Sul fatto che Non Non sono un bravo youtuber Dicono Crede che l'elmetto in ferro Sia migliore di quello in diamante Sì Lo è Lo è Non devo dare spiegazione a nessuno È meglio Sotto tutti i punti di vista È più bello esteticamente È più potente Ti porta fortuna È più facile da craftare Costa meno Vogliamo mettere ragazzi L'unica cosa Dell'elmetto in diamante Che Diciamo Tra virgolette Tra tantissime virgolette Mi piace Wow Cos'è tutto sto ferro Scusate È normale Comunque Dicevo L'unica cosa Che tra molte virgolette Mi piace Dell'elmetto in diamante E che poi Si può trasformare In nederite Cioè quello è il suo unico pregio Ma ragazzi non è normale Tutto questo ferro Scusate Non penso di aver mai visto Così tanto ferro Tutto insieme No non è normale Eh infatti Immaginavo Ma che cavolo Hai citato Ma come Se sono in live Con voi Come facciamo a citare Scusate Sto andando a zonzo Sto andando a caso Vabbè Siamo stati molto fortunati Col ferro Io direi che col ferro Possiamo anche fermarci Perché ne ho 64 Quindi Secondo me siamo Belli che a posto La crafting di prima Non l'ho presa Vero? No Tepereva Ecco Faccio sempre la stessa cosa Creo crafting E le lascio in giro Diamanti? No direi di no Andiamo su Torniamo indietro Verrei a Luca Comics Tecnicamente si Però non ho ancora in mente Cioè non so bene ancora Quando Come Cosa farò Eccetera In realtà Vorrei fare una cosa Interessante Ma tutto dipende Se mi arriva o meno Un oggetto Entro Entro quella data lì Perché ancora Lo stanno creando Poi magari ve ne parlo Più in là Wow Che è caduto Mi sei fatto male mamma? Vai esplodi Oh siamo quasi 10.000 Ridendo e scherzando ragazzi Esplodi Bravo Ok Allora Continuiamo a salire Tanto possiamo comunque trovare Degli altri diamanti Qua su in alto Giusto? Siamo a meno 24 Ha voglia Fino al livello 12 Si possono trovare E tu sei morto Addio Firma copia in Sicilia Hmm 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 Allora Qualche diamante Lapis Voi avete visto qualcosa ragazzi? Qualcosa interessante no? Mi sa di no Prendiamo sta redstone Così facciamo 30 livelli Io devo studiare Mi dispiace per te Dal profondo del cuore Mi dispiace per te Però va fatto Perché non prendi l'oro Perché ne ho troppo Non so veramente cosa farmene ragazzi C'è nelle ceste C'ho 5 blocchi d'oro Più altri 2 stack Sono troppo ricco di oro Mi serve soltanto un pochettino di ferro E dei diamanti E scusi Ma lei? Anche lei è piuttosto ricco con l'oro Giusto? Un po' taccagno però Non mi ha dato nulla Intanto piovono creeper Piovono polpette Allora questa quindi è la fine della mineshaft Però non ci ho trovato veramente nulla In questa mineshaft C'è ne Oh neanche una cesta Adesso riprendiamola che è meglio Sei il mio idolo Grazie Fabio Ok Che butto Le piume dai No Aspetta Via Nessuno vuole le piume di bella faccia Che schifo Puzzano No Non vedo altri diamanti Devo iniziare a prendere anche un po' di carbone Mi sa Perché Sto per finire le torce Questo potrebbe essere un problema Di qua ci siamo già stati? Mi sa di sì C'è la torcia Sì Non c'è nulla qua Andiamo via Allora O dobbiamo trovare un'altra caverna O dobbiamo trovare un'altra insenotura Posso giocare con te È un mondo single player questo Non si può giocare in multiplayer Magari un giorno lo farò Firma coppia è Bologna Ragazzi volete sapere troppo Volete sapere troppo Saprete tutto A tempo debito Non vi preoccupate Allora qua Mi sa che non ci sono stato Quindi possiamo scendere Da questa parte Ci sono andato? Allora Facciamo esplodere lui Ciao amico Ehi Vuoi esplodere pure tu? Anche tu? Ok Sì Di qua non ci siamo stati Vero? C'è Xiao? Ciao Xiao Un altro firma coppia a Milano Ripeto Volete sapere troppo ragazzi Spero che questo valga come risposta Oh Qua si allarga la caverna Sì 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 Molto bene Allora esploriamo un po' questa Questa zona qua Un botto di lapis Pochissimi diamanti Zero diamanti Basta Cosa mi sono perso? Ragazzi Basta Basta anche voi Ok prendiamo questo Usa l'X-ray come nei miti No A parte che non si può fare secondo me Siamo in 10.000 Bene ragazzi Grazie mille a tutti Benvenuti Se siete appena arrivati Stiamo cercando i diamanti Che non si trovano Ce ne sono veramente pochissimi E poi a un certo punto Mi dovrò anche incantare Cioè sto cercando di fare pure 30 livelli Lo scopo della live È quello di giocare insieme Per un'oretta Cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo Lo sono dimenticato La memoria di un criceto Oh Qua non ci siamo stati Questo è poco ma sicuro Tu cadi giù Non vedo i diamanti però No Porca miseria Ehi Fai il bravo Ok Meno male che ho i riflessi pronti ragazzi Cosa mi sono perso Sarà la mia La mia condanna a morte Quel cosa mi sono perso Ogni volta che farò una live Altra ametista qui Molto molto interessante Ma sono uno stupido Già che c'ero Potevo prendere un po' di legna Dalla mineshaft Così mi facevo delle altre Delle altre torce Ah No Ma noi siamo venuti da qua Quindi sto tornando indietro Ah pensavo fossero diamanti Stiamo tornando indietro Questo è il tunnel Ok 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 Va bene Mi va bene tornare indietro Perché Mi sa che non c'è nient'altro qua Quindi almeno troviamo una nuova caverna Prendiamo un pochettino di queste torce Facciamo una Oh Stop Il gioco è bello finché dura poco Che poi non è vera sta cosa Cioè ma Chi è che gioca per poco E si diverte Quando gioca ai videogiochi Gioca anche 12 ore Altro che poco Muori 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 E muori Ok Sei il migliore Grazie mille Lo so Sto scherzando Si vede male Prova a cambiare connessione Prova a usare il wifi O se stai già usando il wifi Prova a usare il 4G Perché a me dice Connessione eccellente Comunque poi Appena verrà Ricaricata su youtube La potrete vedere In massima qualità E' un problema delle live di youtube Non so per quale motivo Le fa vedere sfocate Se non avete una connessione forte E' veramente veramente brutta sta cosa Però sono sicuro che prima o poi Lo risolveranno Aspetta un attimo ma Questa l'abbiamo esplorata O sono venuto da lassù E sono andato dritto la Eh mi sa che sta zona Non l'abbiamo vista Come faccio a donare? Non si può Le donazioni nel mio canale Sono vietate Non voglio che voi Mi diate soldi Tanto la live è già monetizzata Ragazzi Quindi non vi dovete preoccupare di quello Lo faccio soltanto per divertirmi con voi Sì 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 Fermi tutti qua C'è una nuova caverna inesplorata Molto bene Tanti possibili diamanti da ottenere Spoiler Ne troveremo zero Neanche uno Vedrete La mia solita fortuna Allora Lapislazzuli Mi raccomando ragazzi Occhi aperti per i diamanti Voi siete i miei occhi di falco Oh Già trovati? Così facilmente? Ah però E anche tre Magari sono quattro Avevi saltato le diamanti? Hai perso un diamante? No raga veramente? Dove? Allora facciamo così Siccome c'è un po' Di delay nella chat Io sto fermo Ditemi dove devo andare Dov'è che ho saltato i diamanti? Devo andare indietro? Adesso? O devo andare avanti? Torna indietro Dietro Ok Mi fido ragazzi Se mi state trollando Non è carino Ok A quanto pare ho saltato dei diamanti Ma non li ho visti Continuate a dirmi dove Cioè si trovano sul soffitto? Si trovano per terra? O sulle mura? Aia Oppure vi siete confusi con i lapislazzuli? Indietro vicino Vicino alla lava Ok Qua? Questa lava? Questa lava? Vi faccio rispondere Quelli sono lapis No Non quella Ok Oh meno male ragazzi Che voi avete una bella vista Perché io Mamma mia Totalmente ceccato Questa lava? Ancora avanti? Ok Allora deve essere questa lava Quelli non sono diamanti Ma dove ragazzi? Oddio Ah Ma porca miseria Ma sono veramente cieco allora? Ma veramente? Cioè così? In bella vista Io non lo vedevo No vabbè ragazzi Cioè Devo mettermi gli occhiali Anche se lì ho già Fatemi dare un occhiato un attimino qui al volo Oh Aia Diamanti E piscina di lava Molto molto bene Molto molto bene Molto bene No ragazzi No ragazzi Cioè io con i diamanti Sono una causa persa Non so per quale motivo Non riesco mai a distinguerli A vederli Passo dritto Ma poi nei video me lo dite Vi arrabbiate tantissimo Quando nei video passo Ci sono dei diamanti E mi dite Ma come fai a non vederli? Sono proprio lì Eh ragazzi Che vi devo dire? Sono stupido Ok Prendiamo questo Meno male che ci siete voi Devo farli in live Tutti gli episodi in miniera Così Non perdo mai nessun diamante Quanti ne ho? Oh Ragazzi 8 diamanti? 8 diamanti? E chi sono? Un pro? Un prosciutto Vediamo se ce ne sono degli altri Bellissimo qua Separato lava e acqua In questo modo Però Mi sa che non c'è Altra roba qui Andiamo via Non c'è niente Siamo noi i pro Sei un cieco Eh lo so Ragazzi scusate Perché vi devo dire? Meno male Meno male che ci siete voi Se ne vedete altri Mi raccomando Avvisatemi Anche se adesso in realtà Mi interessa il giusto Visto che i soldi Li abbiamo Siamo pieni di diamantozzoli Sto andando dalla parte giusta? Senso dell'orientamento Zero No Mi sa che sto sbagliando Totalmente strada Ma Tutte le strade portano a Roma E noi non dobbiamo andare a Roma Ok Visto? Ce l'ho fatta Siamo tornati al punto di prima Ok Tecnicamente qua dovrebbero esserci Degli altri diamanti Perché è inesplorata E soprattutto è gigante Intanto Siamo sempre più vicini Ai 30 livelli Quando riporterai Spider-Man da PC Eh Avevo detto Nel video Che avrei fatto soltanto Un video Per farvelo vedere E che poi porterò Miles Morales Quando uscirà Per computer E Quando finalmente Uscirà Spider-Man 2 Comprerò una PlayStation 5 Per farci tutta quanta La serie completa Quindi la potrete vedere Sul mio secondo canale Candy Dove porto altri videogiochi Oltre a Minecraft Se non lo sapevate Mi faccio una piccola promo Allora Qua diamanti Non ne vedo Giusto? Correggetemi se sbaglio Ma direi proprio di no Quindi andiamo da un'altra parte Prima c'erano dei diamanti Non è vero Non posso essere così cieco Non mi prendete in giro Diamanti indietro Dai veramente ragazzi Dove? Come ho fatto a non vederli Quelli sono l'apis Quelli pure Questo è un creeper Questi sono due creeper Un altro creeper Ma sapete che io Quasi quasi Me ne tornerei a casa? Che dite? Farmo 30 livelli E poi torniamo a casa Così posso incantarmi? Chissà che è una buona idea No ma cosa mi incanto Con 30 livelli Se non ho neanche le librerie Ma io sono uno stupido Guarda No devo fare Devo fare le librerie Dobbiamo trovare un altro villaggio Allora E certo Per forza Scendiamo qua Le librerie nella mineshaft Non si trovano vero? No Che dico Allora Vediamo se troviamo qualcosa di utile Muori Qua c'è una mineshaft E quella di prima Uh c'è sta Controlliamoci le spalle Ferro Vabbè le torce mi possono servire Facciamo così Prendiamo le torce al volo Che tanto ne abbiamo bisogno Prendiamo anche un po' di questo Ok Wow Non so ragazzi Non mi ispira troppo questa mineshaft Andiamo via Andiamo via Andiamo via Siamo 11.000 Oh porca miseria Ciao Benvenuti a tutti Allora Stavo andando da questa parte giusto? Dove stavo andando? Ma è vuota No 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 Abbiamo finito Via Si esce Basta Adesso prenderò soltanto redstone Nell'apislazzoli Per fare 30 livelli E poi andiamo alla ricerca di un bel villaggetto Per rubare un po' di librerie Che ne dite? Prendi i binari Ma no Tanto Ne ho già un bel po' di binari E poi so dove trovarli Ci sono tante mineshaft vicino a casa mia Nelle Badlands Porterai mai NBA 2023? Non credo Ho già fatto un video su NBA Se non sbaglio nel 2000 Nel gioco del 2021 Sì NBA 2K21 mi sa Sempre nel mio secondo canale Candy Quindi se volete vedere quei video là Andate e spulciateveli Fermi un attimo Qua mi sa che c'è qualcosa Ok altri lapis per i livelli Ottimo Grazie C'è dell'altro? Esploriamo? C'era un altro diamante Vabbè ragazzi pazienza Cioè non voglio stare a impazzire Per qualche diamantino Tanto ne ho già otto Ho tutta la corazza Ho anche la spada In realtà con i diamanti Che cosa devo fare? Devo fare gli utensili E basta E basta Allora Prendo questo carbone Così faccio ancora livelli Sì sì torna a casa Ti conviene È vero È vero Era sopra Non l'hai visto Vabbè fa nulla Farai un video solo in terza persona Ma quasi tutti i miei video Sono in terza persona Io sono abituato a giocare in terza persona Tra l'altro a volte mi chiedete Ma come fai a fare il parkour in terza persona? Boh Io mi trovo meglio Sarà che Quando ero piccolo Io i giochi erano quasi tutti così Dovevi giocare in terza persona Qua c'è qualcosa di utile? Oh No Non è un diamante Sì Io tornerei a casa Che dite? O se non altro Risaliamo Se intanto qua troviamo qualche diamante Ben venga Altrimenti Pazienza Cadi Stupido Dai 28 livelli ce li abbiamo Ti adoro Ma Roblox lo porti? No è da un bel po' Che non porto Roblox Oh Così? Un agguato? Mi volevi uccidere? Mi volevi far fuori? Non vedo diamanti Quindi non perdiamo tempo Ok Via Si torna a casa Tra l'altro Io so che Gli episodi in miniera Vi piacciono tantissimo Perché Ricevo sempre commenti di gente che mi dice Porta più video in miniera Falli più lunghi Ti prego Sono rilassantissimi Non capisco questa cosa Delle miniere Che vi piace così tanto Sono veramente così rilassanti Forse dovrei iniziare a parlare In modalità ASMR Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video in miniera Adesso cercheremo i diamanti No In realtà abbiamo già abbastanza diamanti Possiamo risalire Direi di tornare a casa Ecco perfetto Torniamo a casa Possiamo questo va Mi svelo un piccolo trucchetto ragazzi Basta mettere una torcia qui Così se vi cade della sabbia o della gravel Non morite Così mi addormento Ma no dai Non puoi addormentarti Sono le 12.45 Su E' ora di pranzo Cosa mangerete a pranzo quest'oggi? Cosa è stato quel rumore? Ma sono i rumori random delle caverne Non servono a nulla Mi ricordo che all'inizio Quando li sentivo Mi spaventavo tantissimo Non si sente Come non si sente? Prova ad alzare il volume Pizza? Ma com'è pizza? A pranzo? Beato te Beato te veramente Ok Molto bene Dove siamo? Non ne ho idea Allora Cosa mi serve? Mi serve un villaggio Quindi andiamo un po' a zonzo Un po' in giro Però mi serve un villaggio della pianura Perché se non sbaglio Gli altri villaggi Non hanno le librerie Giusto? Quindi manteniamoci nella pianura Cerchiamo un bel villaggetto Polpette Oddio Da quanto tempo che non mangio le polpette Carli se stai guardando questa live Ti prego Facciamo le polpette stasera Per favore Ti supplico Ok Cerchiamo un villaggio Villaggio della pianura Ma la tua casa? Mi sa che quest'oggi Non ci torneremo a casa Perché Fin quando non trovo delle librerie Non ha senso Devo avere abbastanza librerie Per incantarmi tutto quanto Visto che c'ho 27 livelli E al momento Non ne ho abbastanza Quindi dovremo trovare un villaggio Sarà quella la priorità Io passo al pomodoro Allora So che mi odierete Per questa frase che sto per dire Soprattutto Mark A me Non piace troppo la pasta al pomodoro Cioè nel senso Se non la mangio per tipo due anni La apprezzo Dico Ah mi era mancata Buona Però tipo Mangiarla più di una volta Al mese Mi stomaca Non mi piace Non fa per me Lo so Lo so Un'eresia Probabilmente vi starete disiscrivendo No Non lo fate per favore ragazzi Per favore Giuro che me la farò piacere Polenta Buona anche la polenta Buonissima Polenta con la salsiccia Mamma mia Che fame che mi state facendo venire ragazzi Porca miseria Perché ho parlato di cibo in live Maledetto me Ciao lama Cos'è un motorino? I villaggi sono veramente Veramente rari Nell'impero Craft Non ne ho trovati molti Credo che stiamo tornando verso casa Può essere Eh sì Da quella parte dovrebbe esserci la giungla Per andare a casa mia Quindi devo andare dalla direzione opposta Dobbiamo andare di là Tortellini Ah Io li mangio stasera i tortellini Andremo Tipo a una festa Con Carly Con la mamma di Carly E Dove fanno i tortellini freschi Quelli buoni Non vedo l'ora ragazzi Forse per me mangerei i tortellini Letteralmente tutti i giorni È proprio il cibo supremo Il cibo god Mi spiace Ma sono anche più buoni della pizza L'ho detto L'ho detto Una bella tagliata di carne Ci sta Io mangio bella faccia Fai attenzione Pulliscilo bene Perché puzza Sono anni che non si lava Spaghetti alla bolognese Con ragù quindi Anche se tecnicamente Ci spaghetti alla bolognese Dovrebbero essere col tonno Da tradizione eh Credo Non lo so Googlatelo Magari mi sbaglio Carbonara Eh vabbè Allora ragazzi Mi volete male È da una vita che non mangio L'ultima volta che ho mangiato la carbonara È stata a Roma E In questa trattoria Che non mi ricordo il nome Tipo trattoria degli amici Una roba del genere A Trastevere Ed ero con Josh Vi ricordate Josh Che abbiamo fatto il video insieme? L'ho portato a Roma E abbiamo mangiato una buonissima Buonissima carbonara Mamma mia Che buona la carbonara Che bella l'Italia ragazzi Ogni regione Oh villaggio finalmente Ogni regione C'ha delle perle nascoste Delle perle troppo troppo belle Buone Allora Spero che non sia il villaggio Che ho già raidato Perché se no è un problema Ma Direi di no Non sembrerebbe C'è qualcosa? La carta Sono un po' poveri questi eh Wow Ma Sapete che è la prima volta Che vedo questa struttura? Non avevo mai visto La casa farm Così Aperta Con la recinzione Cioè Sono stupido io Che non me ne sono mai accorto O è tipo nuova Vi prego rispondetemi Perché Non L'avevo mai vista Credo Magari mi sbaglio Ma È nuova? È nuova veramente? Eh infatti Oh ma ho fatto stranissimo Ma guarda un po' Già c'era C'è da mo Ma come? Alcuni mi dicono che è nuova Scusi Questa è maleducazione Si svegli per favore Alcuni mi dicono che è nuova Altri mi dicono che Che c'è da un bel po' Vabbè A noi servono soltanto le librerie Sì Ti lascio le porte aperte Faccio come mio padre Quando mi entrava in camera Che fastidio Allora No dai Cioè non ho trovato niente Oh Oh grandicella sta Sta caverna Fermi un attimo Scendiamo un attimo giù Perché la voglio vedere Oddio Il villaggio continua là sotto Ma che cavolo C'è dalla 1.17 Sapete che mi sa che non l'ho mai vista allora Ma Sì È gigante Ok facciamo così Piano Terra sull'acqua Lo sto facendo soltanto Non per i diamanti ragazzi Ma soltanto per vedere Se ci sono delle altre librerie Sì Visto che ho fatto bene ragazzi Ho fatto Bene Dov'è la mia roba con Silk Touch? L'ho lasciata a casa vero? Sono proprio uno stupido Allora Vabbè Buttiamo un po' di spazzatura Che vedevo di Prendiamo così Perché non ho preso le cose con Silk Touch? Maledizione Ok Bene Abbiamo un po' di libri Qua su Non ce ne sono altri vero? No Visto ragazzi La perseveranza Ripaga sempre Se mi fossi arreso E me ne fossi andato Non avrei mai trovato tutte quelle librerie Ok Mi sa che non c'è nient'altro Questa la piglio Siamo a Quasi 12.000 spettatori Allora ragazzi Mi spiace me lo devo fare Facciamo così Se arriviamo a 12.000 Suono la campana adesso Vi aspetto eh Non mi muovo Fin quando non arriviamo a 12.000 spettatori Siamo a 11.830 Forza Ne hai dimenticata una Ma va? Veramente? Aspetta Ah è vero Grazie Ho sempre detto che voi siete i miei occhi Forza ragazzi Condividete la live con i vostri amici Dobbiamo arrivare a 12.000 Così suono la campana E fu così che la live durò 955.000 giorni No 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 dai Mancano soltanto 120 spettatori Ce la facciamo Io sto qua eh Non mi muovo Anzi Vi dirò di più Adesso bevo anche un po' d'acqua Fatelo anche voi se non avete ancora bevuto 11.982 Manca poco Forza Doi 78 Ehi Ehi Qualcuno sta lasciando Ehi 12.000 ho detto Manca poco Volete che io suoni questa campana vero? Eh? Vorreste suonarla voi al posto mio E io non la suono Fin quando non arriviamo a 12.000 12.000 12.000 spettatori simultanei Manca pochissimo ragazzi 12.000 No non è vero Non ci siamo arrivati Ne mancano 50 Ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati e non l'ho visto? Vabbè dai Ne mancano 50 Se non l'ho visto Non l'ho visto Oh Perfetto Ora ne mancano 20 Oh Bene Era il destino Ok ragazzi Direi di risalire Immediatamente Abbiamo preso un bel po' di librerie E adesso possiamo Andare un pochettino verso casa Come cavolo faccio adesso a risalire? Eh È un po' rischioso Perché Se tipo mi colpisce Uno scheletro e mi fa cadere Potrei farmi un po' di male Onestamente E soprattutto non ho blocchi Sto cercando di ragionare Secondo me ce la faccio Ma si che ce la faccio Ce la faccio vero? Sì 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 Dai Ancora Bene Bravo Continua Bravo Ok perfetto Facciamo così Bella nuotata E voilà Vecchio stile proprio Vecchia roccia Vecchio lupo di mare Così Sali Pilla l'acqua Rimettila su Boom Ok Credo sia arrivato il momento Di tornare a casa ragazzi Quindi le coordinate sono 390 E poi 2857 Quindi dovrebbe essere Tutto dritto da quella parte Mazzà che senso dell'orientamento Oh E tu? Tutto incantato? Cos'è? Flexi? Quanto costa il tuo outfit? Oh Cosa mi ha dato? Beh Inutile Ci ho di meglio Ci ho di meglio E avremo di meglio ragazzi Prima o poi faremo Tutta quanta la corazza E tutti gli utensili Finali Voglio prepararmi al meglio Per lo scontro contro il drago Sarebbe bello Uccidere il drago Con una challenge Tipo Non lo so Allora L'ho già ucciso a pugni E Non è stato troppo complicato Quindi devo fare qualcosa Di più difficile Sarebbe bello Tipo uccidere il drago Da bendato Nell'impero Craft Eh? Quanto spaccherebbe Un video del genere Ho ucciso l'ender dragon Da bendato L'unico uomo al mondo A esserci riuscito Ci starebbe Ci starebbe Vediamo Ci penso No no Col piccone Ma ragazzi Sono riuscito a ucciderlo A pugni Secondo voi Non riesco a ucciderlo Col piccone? Tra l'altro Se ve lo siete persi Il video dove ho ucciso Il drago a pugni È letteralmente L'ultima live Che ho fatto Prima di questa È uscito qualche mese fa E c'ha quasi Un milione Di visualizzazioni Mamma mia È stato troppo epico Tre ore di live In un mondo Da zero In cui siamo andati Nell'end Ho ucciso il drago A pugni E ho finito Minecraft In quel modo là Scusate per lo spoiler Però è uscito Mese e mesi fa Se siete curiosi Di vederlo Vi consiglio di andarlo A recuperare Mancano quattro minuti Alla fine della live E noi ci stiamo avvicinando Sempre di più A casa Secondo voi ce la facciamo? Riuscirò Ad entrare in casa Prima Che scada L'ora? Eh non ho detto ragazzi Sarà una bella sfida Quattro minuti per tornare Incredibile che in un'ora Siamo riusciti a fare Letteralmente tutto Quello che dovevo fare Abbiamo trovato Abbastanza ferro Abbiamo trovato Abbastanza diamanti Abbiamo trovato pure Il pane Cosa c'entra il pane? Abbiamo trovato pure Il tavolo degli incantesimi Cioè volevo dire Le librerie Ho fatto quasi 30 livelli E adesso ce ne torniamo Buoni buoni a casa Non ci posso credere Tutto programmato ragazzi Visto? Ok Questa è la prima live Che guardo Bene Benvenuto Ce ne saranno sicuramente Delle altre ragazzi Non vi preoccupate Ok Non staccare Eh ragazzi Devo andare a pranzo Tra un po' è l'una Devo per forza staccare La live dura un'ora soltanto Ma non vi preoccupate Ne faremo delle altre Ne faremo delle altre Tranquilli Tranquilli Ok Appena arriviamo a un'ora Preciso La stacco Mancano due minuti Iniziamo a fare il countdown Cosa mi sono perso? No 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 È un po' tardi per dirlo Si è perso tutto Si è perso tutto Quanto la live Mi dispiace per te La potrai riguardare Tra qualche minuto Perché verrà caricata Tutta quanta su youtube Le coordinate del tuo castello Le coordinate Ciao papagallo C'ho dei semini? Aspetta Se funziona il primo semino Sarai il mio papagallo per sempre Oh Ragazzi Abbiamo un nuovo amico Troviamogli un nome Troviamogli un nome Allora Le coordinate Sono tipo 380 E 2800 Una roba del genere Quindi Siamo dalla parte giusta C'è un panda Ciao Non ti avevo mai visto Nell'impero Craft Che carino Colui che parla Junior No Ragazzi Colui che parla No 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 Troviamogli un altro nome Dobbiamo distinguerlo Da quello della Big Vanilla Non può chiamarsi Colui che parla Oh manca quasi un minuto Ragazzi Ce la faremo Tornare a casa No secondo me Non ce la facciamo Vedo la montagna Ragazzi siamo lì Oddio No in un minuto Non ce la posso fare A meno che volo È impossibile È impossibile Ecco la mitica torre Mamma quanto è bella Quanto è bella Che mi segnala sempre Casa mia La mia montagna Ne devo fare delle altre Ragazzi lo so Lo so Ne farò delle altre Prima o poi Allora qua l'ultima volta Ci sono morti E volevo dire No non ci sono morto Non so per quale motivo Abbiate pensato Che io stessi dicendo quello Ok siamo praticamente a casa Siamo tornati Manca veramente poco E Mancano anche 30 secondi alla fine della live Ragazzi È stato bello È stato un piacere Giocare con voi Spero vi siate divertiti Ovviamente ci saranno Delle altre live E soprattutto Quest'oggi non uscirà Un altro video Cioè quindi guardatevi questo Se non l'avete Visto tutto Sali Ok Tra l'altro Tra pochissimi secondi Uscirà Il video di Carly Quindi Se vogliamo fare una cosa carina Sarebbe bello farle Tipo un ride Dove scrivete Tutti quanti nel video Ci manda Kendall Eh sarebbe figo È appena uscito È l'una Un'ora di live Nell'impero craft Andate tutti nel canale Di Eke Carly E commentate Sul suo ultimo video Dicendo ci manda Kendall Voglio vedere almeno Mille commenti Mille commenti come minimo Tanto se 12.000 Ce la facciamo Grazie Grazie di essere venuti Qua in live Spero vi siate divertiti Io vi mando un bacione Adesso vado a pranzo Buon pranzo anche a voi E soprattutto Buon inizio scuola Ciao Ciao